Ciao amici, le mandorle sono ricchissime di benefici, lo sapevate? Sì, noi ne mangiamo un po' ogni giorno. Bravi! Oggi scopriamo insieme alcuni di questi benefici per la salute dimostrati dalla scienza. Se vi piace l'idea, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Amici, se vi interessa questo argomento, ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito. Trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra. 1. Super nutrienti. Le mandorle contengono acidi grassi essenziali, vitamina E, ferro, calcio e magnesio e apportano 571 calorie per 100 grammi. Ma allora fanno ingrassare? Al contrario. Certo, bisogna mangiarne con moderazione, ma si tratta di calorie sane che stimolano il metabolismo e il potere bruciagrassi del corpo. Sono le calorie morte dei cibi industriali che fanno ingrassare. 2. Anticolesterolo. Questo seme oleoso contiene grassi polinsaturi e monoinsaturi che contrastano la produzione di colesterolo LDL o cattivo, nemico di cuore e circolazione. Per questo aiutano a prevenire la formazione di placche nelle arterie. 3. Pressione alta. Il contenuto di magnesio delle mandorle è utile contro la pressione alta sia per chi soffre di ipertensione sia come prevenzione per chi non ha problemi. 4. Diabete. Secondo una ricerca condotta da Michelle Vine della University of Medicine and Dentistry del New Jersey, le mandorle abbassano l'insulina e aiutano a ridurre le condizioni di pre-diabete, oltre che ridurre il colesterolo alto tipico di questi stati. Un motivo in più per mangiarle, giusto? Per vedere tanti altri video su come mangiare in modo sano, basta iscriversi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando la campanella delle notifiche qui sotto. Se YouTube non vi avvisa andate nella home del canale perché pubblico ogni giorno, mangia sano e vivi meglio!